Si concluderà domani la seconda mostra di Presepi allestita all'interno del Palazzo di Città, Presepi in Comune, promossa dalla Proloco di Gela grazie all'importante collaborazione degli istituti scolastici locali. La mostra allestita è inaugurata lo scorso 19 dicembre, ha riscosso un notevole successo di pubblico. Molto apprezzate le composizioni della Natività, frutto dell'impegno degli studenti e dei loro docenti. Significativi i temi trattati dalle scuole, immigrazione, rispetto dell'ambiente, giubileo della misericordia, eccellenze del territorio, forza evocativa delle tradizioni. Mercoledì 6 gennaio a partire dalle 17.30 sono previsti esibizioni musicali con Samuele Mammano, intrattenimento, degustazioni dolci e salate, grazie al pasticcere Angelo Cassarino e al panificatore Michael Cassarino e la pesca dell'epifania con l'estrazione dei biglietti vincenti. Numerosi premi messi a disposizione dai commercianti che hanno sposato il progetto della Proloco. I numeri vincenti saranno poi pubblicati sul televideo di Canale 10, sul sito www.prolocogela.com e sulla pagina Facebook Proloco Gela. In occasione della giornata di chiusura della mostra dei presepi è prevista l'accoglienza che, come già avvenuto per l'inaugurazione, sarà curata dagli studenti dei corsi diurni e serali dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo. Gli allievi sono coordinati dal professore Emiliano Sigona. Durante la serata di domani saranno presenti il sindaco, gli assessori e consiglieri comunali, dirigenti scolastici. Prevista anche la presenza dei responsabili della Proloco di Delia e vertici dell'Ions dei Castelli di Caltanissetta, con i quali sarà suggellato un protocollo di intesa al fine di valorizzare le bellezze del comprensorio gelese e nissenu.